Ciao a tutti bellissimi, benvenuti in questo nuovo video ma soprattutto benvenuti in questo nuovo paese perché il nostro viaggio senza scadenza continua e al momento ci troviamo in Giappone Siamo qui già da qualche settimana, abbiamo avuto modo di vedere posti meravigliosi Kyoto, Hiroshima, templi bellissimi e adesso siamo a Tokyo Se volete vedere di più su questo paese trovate tutto sul nostro profilo Instagram andateci sicuri da lì dove tra le storie in evidenza e i Reel vi facciamo vedere cose interessanti Ecco, in questi giorni nella capitale volevamo provare uno dei famosi mini appartamenti giapponesi sapete che il Giappone è famoso per questi appartamenti piccolissimi e noi infatti ne abbiamo uno da 13 metri quadri Ora la domanda è, ma in un appartamento da 13 metri quadri che cosa ci sarà mai e soprattutto come si vive in due in un appartamento da 13 metri quadri? Scopriamolo Vediamo Allora andiamo per ordine, facciamo le cose per bene Innanzitutto tutto è praticamente digitale, quindi anche il check-in si fa con tasti, tastini, codici Insomma, quando entri c'è questa porta, premesso che qua ci sono gli altri, praticamente sono tutti lì in serie Qui entri e ti ritrovi subito la scarpiera Oh, i giapponesi sono ordinati e non camminano mai con le scarpe dentro casa Vedi che carini Cioè, almeno ti mantieni la casa pulita, tutto ordinato, le scarpe le metti qua e basta Assolutamente Soprattutto nell'appartamento così Attenzione, giusto per farvi capire Porta automatica che si chiude da sola Non ci pensate Ecco, e gesto di cortesia, qua ti lasciano sempre degli ombrelli così tu li prendi, te li porti in giro e vai Anche il passone delle scarpe l'abbiamo visto praticamente ovunque Guarda, pure questo Calza, scarpe, integrato Va bene Anche lì, vedi l'ordine e la precisione dei giapponesi colpisce ancora Qui abbiamo lavatrice d'ingresso Quindi c'è anche la lavatrice Dai Credo sia anche un'asciugatrice se non sbaglio Addirittura Se sapete leggere questi caratteri Attenzione, attenzione C'è pure il tocco di fino perché abbiamo pure l'asse da stiro Scusa, ma io mi chiedo come si chiama questo coso? Vediamo Ah, c'ha le gambette No, no, così, così, guarda No, le gambette non le avevo viste Quindi lo poggi tipo sotto Lo poggi sul tavolo È tipo minimal Ci sta pure sulla lavatrice? Non lo so Volendo ci starebbe pure sulla lavatrice Vabbè Quello che è? Un ammorbidente? Quello sarà un detersivo Ci hanno pure lasciato Un ammorbidente Detergente, sì, sì Un detersivo Un detergente per lavare Ma che carini, vedi? Esattamente di fronte alla lavatrice Sempre rimanendo in abito ingresso Una doccia Una bella doccia Piccolina Però ci hanno lasciato anche in questo caso Shampoo e bagno e spiume Vabbè, piccolina dai, non tantissimo Guarda, tieni Non è male Fammi vedere Vediamo Vediamo Piccolina Vabbè, ci entro normalmente Chiudi la porta Sì Perfetto Vabbè, una persona ci sta Sì, sì, ci sta bene C'è pure lo specchio dentro Certo, lo spruzzio Mi sembra un po' piccolo È piccolino, eh Chissà come spruzza Testiamo come spruzza, dai Voglio vedere come spruzza Aspetta Ma no, spruzza Ma no, spruzza Ma no, spruzza Ma no, spruzza Con la pressione C'è, c'è la pressione Va bene, abbiamo una bella doccia Va bene Eh, vede, poteva andare peggio Eh sì Eh, ti lasciano pure il tappetino Così sei qua apposta all'ingresso Detergenti Andando a ritroso come i gamberi Abbiamo anche Angolo cottura Eccolo Un fornellino E il lavandino Ci hanno lasciato anche in questo caso Dei detergenti per pulire Ahah Qua sotto abbiamo un coltello La macchina per il riso No Ma ieri No, la macchina per il riso È tutto quello che può servire Anche per passare qualche giorno Qua ci sono anche delle utili Di casalinghe Domestiche Quelli sono dei taglieri? Sì Sì, taglieri Taglieri e tutto quanto Un fornellino certo Non è il massimo Un fornellino solo Però calcolando che In 13 metri quadri È anche tutto pronto Quindi La loro concezione è questa C'è una luce da k Sì C'è Vediamo Luce da k E fornellus Insomma Minimalista ovviamente E qua ancora abbiamo fatto Sì e no Un metro e mezzo All'ingresso Poi Andiamo E voilà Il bellissimo Cabinetto giapponese Pezzo forte No ragazzi Questo però è tutto una parentesi Cioè A parte il fatto che La tavoletta È calda Sempre È una meraviglia Da notare che qui c'è anche La piastrina di comando Con i vari tasti No scusate Ma qua dobbiamo zoomare Allora Cosa preferite Davanti O dietro E anche l'acqua Esce calda Sto morendo Perché qui dovete sapere Che premete quel tasto E fa un tipo di sciacco Premete quell'altro tasto E fa un altro tipo di sciacco Peraltro Le tavolette Intelligenti giapponesi Sono talmente intelligenti Che non è che spruzzano così Senza pensarci Voi lo premete adesso Non esce Ah non esce Oh 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 zio Ok Mi sono pisciato addosso Eppure caldo Allora dovete sapere Che in genere Non lo fa Perché spruzza solo Quando ti siedi È bello io Oh no ma le tavolette Sono intelligenti Troppo intelligenti E quando parla Vabbè Francesco si è fatto La pipì addosso Ragazzi non era mai successo Ma adesso esci così In genere non Allora andiamo per le vie Di Tokyo così No ma in genere Non lo fa Non so solo quando Sei seduto Sì in genere Non si attiva mai Senza essere seduti Invece stavolta Francesco ha provato Senza averlo provato prima Il bello della diretta Andiamo Torniamo a noi Se vi state chiedendo Che cos'è Questa genialata qua Sì È esattamente come sembra È un rubinetto Lavandino Dove lavarsi le mani Ma C'è ancora di più Del geniale È fantastico Allora qual è la cosa Adesso facciamo uno scarico parziale Giusto per non sprecare Troppa acqua Andiamo di qua Questo è lo scarico L'acqua che finisce Qua dentro È esattamente Quella che esce Del lavandino Quindi sostanzialmente Voi vi lavate le mani L'acqua finisce Nella cassetta La stessa acqua Poi sarà quella Che userete Per lo scarico successivo Cioè praticamente Non spreca acqua così Almeno Geniale Geniale Giapponesi Andando avanti Nel nostro Mega mini appartamento Che mega mini Suona male Questa qui È l'ambiente principale E ora qui Ci sarebbe ad aprire Non fa il donne Perché Mamma mia Qua dentro c'è di tutto Signori C'è veramente Veramente di tutto Allora innanzitutto La di fronte Andiamo per ordine C'è uno specchio a parete Che manco noi ce l'abbiamo Nel monopositivo Quindi ci dovremmo attrezzare Non ce l'abbiamo neanche noi Qui ce l'hanno messo Nel monopositivo Non ce l'abbiamo Noi che abbiamo una casa più grande Noi ne abbiamo 28 Cioè siamo quasi al doppio Siamo più del doppio di questo E siamo dei pivelli proprio Qui abbiamo i nostri zaini cadaveri Che abbiamo mollato lì Attenzione Andiamo Numero 1 E numero 2 Ce l'abbiamo Un ferro da stile Ovviamente c'è l'asse E' chiaro E questi li tengono nelle cassette Belli sistemati là sopra Tranquilli Appendi abiti Salva spazio Così abbiamo tutto ordinato qua Il nostro dolcissimo letto matrimoniale Per effusioni amorose Una piazza e mezza Quanto sarà? Un metro e quaranta questo qua no? Sì È il madrasso Il così chiamato queen Andando a controllare il madrasso Non è esattamente proprio di quelli da 40.000 centimetri Sembra un po' sottile Da appartamentino Però vabbè Non facciamo troppo gli schizzinosi Qui ti danno anche un set di asciugamani Asciugamani Una piccola e una grande E' un spazzolino Che si trova ovunque Spettacolo Completando l'angolo cottura Qui abbiamo il forno a microonde Ecco Il firmetto elettrico Per tostare Ah Bollitore Ok Un set di piatti Che sono tre e tre E due ciotole Credo sia Ma sì dai Due ciotole e tre e tre Poi Frigorifero con freezer Quindi c'è sia il frigo che il freezer Cioè Voglio dire E questo invece credo che sia Sì Per l'immondizia La differenziata Lattine Vetro E Plastica C'è tutto Ce l'ho lasciato anche dei tovaglioli Un carrellino girevole Caffè Tè Credo sia salsa di soia Uh Salsa di soia Olio extravergine d'oliva In capsule In capsule Scusa Fai vedere Mini oliva Abbiamo addirittura L'olio extravergine d'oliva In capsule Cioè Ma più di questo C'è sale non c'è Non c'è Non c'è Questo cos'è Salsa di soia Salsa di soia Salsa di soia Ok Io la bevo praticamente al pari dell'acqua L'avevo la salsa di soia E questo del tè Poi altre tazze Bicchieri Dai E delle pentole Tre Un po' più grande Una padella E un pentolino piccolo Ok Ma altronde c'è solo Un fornellino Quindi Ci può stare Non è che si può cucinare Chissà quanto Tavolino che può servire Per pranzi Cene E studio Certo mi incuriosisce Il fatto che ci sia Una sola sedia Quindi dove mangiamo in due In due Uno sul letto Uno sul letto No No perché mi sa che non è previsto Che tu mangi lì nel tavolino Ma è previsto che mangi da un'altra parte Che adesso ci arriviamo Andiamo con calma Qui c'è l'angolo studio Barra personale Ok C'è pure una bilancia TV Addirittura Ah così proprio Vengono i complessi Perché io praticamente È meglio che non la uso Questo è un ventilatore Questo è il manuale Delle istruzioni Della casa Addirittura Dove ci sono citofoni C'è tutto Internet ovviamente Ce l'abbiamo tutto per noi Abbiamo anche il riscaldamento Indipendente Quindi siamo assolutamente tranquilli Questa finestra che darà sul fuori Ma non si vede adesso Perché è buio Ma attenzione Perché c'è il risvolto Manuale delle istruzioni Per l'allegro sul palco Quindi questo Lo spostiamo Mettiamolo qui Eh sì perché Non ce la facciamo Però ti sei incastrato dentro Sganci questa allegra Quindi la sganciamo da lì Eh sì due Quindi possiamo scegliere Sono tre in teoria Tre ganci Sì secondo me La puoi mettere anche al due Guarda Hai messo all'ultimo però Vabbè la stabile Eh sì perché l'altro Sennò sarebbe troppo verticale Dammi un po' Vediamo Vediamo Effetto sorpresa Ti vengo dietro anch'io eh Effetto sorpresa Saliamo Vai tu prima Ok E che cos'è C'è un soppalchino Ok Premesso che io sono in queste condizioni E non sono Basso basso E non sono altissimo come ragazzo Mi sembra di essere tornato Nella nostra camera No dai la nostra camera da letto Col fatto che c'ha la parte più alta È un po' più comodo Perché riusciamo a stare quasi lì in piedi Grosso modo è uguale Questo invece è un po' più basso Però io mi chiedo Ma portare il mangiare da giù A qui È un po' scomodo Con questa scala Cioè non è che è proprio comodo Ma dici che è concepito per il mangiare Secondo me Boh Sarà concepito per piccoli spuntini Studio Riposo forse Anche se sarà scomodo Stare su questo pavimento Vabbè loro c'è da dire Che mangiano Ancovacciati così Sì loro sì Però portare proprio fisicamente I piatti su Credo che sia scomodo Sì Ma non è immasso Carino Ma c'è un cuscinetto che E questo già Questo già si ragiona È più comodo Sì però mangiare così Comunque è scomodo No no magari per lavorare Ti metti qua col computer Va bene Oddio C'è una baju E nient'altro No non c'è niente Questa è minimalista C'è un interruttore della luce Così accenderà? No spegne la luce Ok E questa è la visuale dall'alto Quindi è questa praticamente La vista panoramica È minuscola Però c'è tutto il necessario Ma devo dire che hanno sfruttato l'ambiente benissimo Cioè hanno compattato Veramente alla grande Sì sì assolutamente Il fatto che giostri gli spazi in quel modo Che sfrutti tutti gli ambienti E sfrutti tutti i centimetri Per poter incastrare cose È assolutamente geniale Ah qua c'è il segno Di fare attenzione Di non buttarti Ah ci sta dicendo Attenzione che cadi Especialmente c'è il letto Potrei provare il salto Non credo perché quel letto non ti regge Quello letto è che legna Ti immagini Ti immagini Finisce come Willy il coyote Neanche un bambolotto Pamm Chiatto Bellissimo Fammi vedere come riscendi Veronica Ah vai a ritroso Brava brava Cavalluccio marino Ok La rimettiamo a posto Anzi fra la rimette a posto Non pesa neanche tanto la scala Scrivania È tutto piccolo e leggero Quindi si spossa tutto facilmente Il carrellino Il pavimento è molto carino Quindi non è neanche il problema Che ti si ghiacciano i piedi No Non abbiamo neanche acceso E gli scaldamenti No si sta benissimo Da notare che questo appartamento Come quelli in serie Qui nel blocco Come tutti quelli simili Di questa natura Vengono affettati Anche per periodi più lunghi Quindi non è solo una soluzione Di qualche giorno Infatti c'è chi proprio Che ci vive In posti così Per tanto tempo Quindi Vivere in uno spazio del genere Non lo so Alla lunga Noi veniamo da 28 metri quadri Di monolocale Quindi comunque siamo abituati Siamo un po' abituati Però Questo è ancora più piccolo Non lo so se ci vive Per una persona da sola Secondo me va benissimo Ecco Potrebbe starci Magari in due Forse è da valutare Voi da che parte state Secondo voi Si potrebbe vivere qui dentro Ci stareste Ecco Ci stareste da soli Ci stareste in coppia Siamo curiosi di sapere La vostra opinione A livello di prezzo Comunque noi abbiamo pagato 60 euro a notte Per tutti e due Quindi praticamente 30 euro a testa Se si divide Un appartamento Secondo me ci può stare Che non è neanche caro Considerato che siamo Completamente dipendenti Bagno, lavatrice Fornelli Tutto sommato Secondo me si può fare Si si è abbastanza bilanciato Peraltro in questi giorni Ci stiamo divertendo E sbizzarrendo A provare varie soluzioni Differenti tra loro Qualche giorno fa Siamo stati in un hotel Molto 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 Particolare Onestamente Non ci era mai successo Di essere accolti In reception Da robot Umanoidi La prima volta L'abbiamo comunque raccontato Su un reel dedicato Su Instagram Quindi veniteci a seguire lì E lo vedete Andatelo a vedere Perché è stato veramente Abbastanza strano Diteci anche lì Che cosa ne pensate In questa situazione Come vi sareste comportati Vabbè Il nostro viaggio Comunque continua Noi stiamo andando avanti Questo viaggio Senza scadenza Ci sta facendo scoprire Un sacco di cose fighissime Infatti fra qualche giorno Prendiamo un altro aereo E andiamo a scoprire Un'altra La destinazione è molto 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 bella Che vi piacerà un sacco E che non vediamo l'ora Di raccontarvi Quindi mi raccomando Innanzitutto Se questo video vi è piaciuto Lasciateci un bel like E non dimenticatevi Di iscrivervi al canale E accendere la campanella Così non mi perdete Tutti gli altri video Assolutamente Noi per il momento Direi che non ci resta Che mandarvi un piccolino 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 Un saluto Da qui Alla prossima Ciao In questi giorni peraltro Ci stiamo sbizzarrando E divertendo In questi giorni peraltro Ci stiamo sbizzarrando E divertendo E provare soluzioni diverse Ieri siamo stati Qualche In questi giorni peraltro Ci stiamo divertendo E sbizzarrando In questi giorni peraltro Ci stiamo sbizzarrando